Tornerà da te, più pentito di prima. Ah, sì? E lei pensa che io me lo riprendi, un uomo così? Fatti spiegare al tuo fidanzato. E lei? Milano è così grande, oppure la terza volta in pochi giorni che ho incontrato in questa piazza. Favrebbe molto bene stare con il topo. Ed è starda, eh? Però è anche molto sensibile. Vito, però, devi imparare ad ascoltarmi perché sembra che non te ne importa niente di quello che dico. Eh, ho visto come ti guarda, eh? Il tuo contabile? Volevo ringraziarla. Non è per la festa. È per lei. Non so niente di lei, ho sbagliato il truppo. Non mi scusi. E anche lei è molto testata. Maria, io non sono pronta per sfuggare l'occia. Mh? Mh. Diciamo. È ok, a lei non dispiace la brava insieme. E io penso che sia una testa calda, eh? No, a me fa piacere. Non so che tipo è. Devo ancora capirlo. No, c'era più competitor. No, vabbiamo. No, vabbiamo. No, vabbiamo. Grazie a tutti